Il calcio non è quello che vedi in tv, è rincorrere l'avversario, lanciarsi in scivolata sulla linea della porta per salvare un pallone destinato alla rete, rialzarsi mentre i tuoi compagni urlano il tuo nome, condividere l'emozione. www.uncamponelcortile.it, una rete di campi di ultima generazione in tutta Italia, una community. Le tue partite, i tuoi tornei, le tue vittorie, non sei solo tu a vincere. Ogni tua partita aiuta a realizzare un sogno. Trenota subito la tua ora di gioco. www.uncamponelcortile.it Strutture sportive di utilità sociale